Sono un socio dell'NCR, Noi Castelli Romani, un'associazione che oramai comincia a diventare storia nel nostro territorio e che si caratterizza per momenti di aggregazione culturale ad altri che sono ad altri di impegno nel territorio per cercare di portare avanti campagne di informazione per le famiglie di tipo medico, di tipo sanitario, dalla prevenzione urologica alla prevenzione dell'obesità, a malattie di ordine clinico che possono riguardare l'infanzia, abbiamo sempre sviluppato tematiche che sono state presentate all'interno di convegni e a cui poi sono seguite campagne di tipo preventivo. Anche quest'anno è in essere un progetto che riguarda la prevenzione dell'obesità e inizieremo in modo itinerante con una serie di incontri nei paesi dei nostri castelli romani. La nostra associazione ha una valenza legata alla rete sociale di questo territorio e chiaramente il punto di riferimento sono i comuni in cui noi operiamo e attraverso una campagna di divulgazione che in maniera preventiva viene organizzata nelle piazze dei vari comuni. All'interno di questi momenti di aggregazione poi si lasciano chiaramente delle disponibilità per garantire un'interazione anche con le istituzioni presenti. Noi stessi siamo anche in parte dei dirigenti dell'azienda sanitaria locale e quindi questa rete che comunque è una rete di cittadini, è una rete attiva nel territorio e al di là del momento aggregativo della campagna è presente in maniera capillare tutto l'anno. Grazie a tutti.